Si è dimesso Calogero Mattina, presidente del Tre Sorgenti, arrestato ieri mattina nel corso dell'operazione sorgente, condotta dagli agenti della squadra mobile del commissariato di Canicattì. A rendere nota la scelta l'avvocato difensore di Mattina, Gigi Restivo. Mattina si sarebbe dimesso per potersi difendere dalle accuse. La sua posizione è particolarmente grave. Ieri si sono aggiunti altri tre capi di imputazione. Il primo perché nella sua qualità di datore di lavoro, quale presidente del Tre Sorgenti, maltrattava i dipendenti del consorzio. Persone queste sottoposte alla sua autorità, ponendo in essere atti concretamente lesivi della dignità dei suddetti lavoratori e consistiti nell'offendere il loro onore ed il loro decoro, affermando in loro presenza che erano delle nullità e che non servivano a niente, minacciandoli di licenziarli trattandosi di dipendenti a tempo determinato. Il secondo capo di imputazione è quello di concussione. Faceva uso delle vetture lanciacappe della Renault Clio di proprietà del consorzio e a lui affidate per ragione del suo servizio, per propri fini privatistici, fra cui andare a fare la spesa, seguire la figlia del sindaco di Licata, Rosaria Graci, nei suoi spostamenti, recarsi in luoghi appartati per assumere stupefacenti, recarsi presso i luoghi dove aveva appuntamento con soggetti dai quali doveva acquistare sostanza stupefacente. Destinava inoltre alcuni dipendenti, pur essendo gli stessi stati assunti dal consorzio per svolgere mansioni diverse di pubblico servizio, a fargli da autista personale, con le autovetture del consorzio, nonché in un'occasione, ordinando ad uno di essi, di seguire la figlia di Graci nei propri spostamenti. Altra inquietante ipotesi di reato contestata avvenuta il 29 ottobre del 2009. Perché? Ponendo davanti alla porta di ingresso del suo ufficio di presidente del consorzio acquedotto tre sorgenti, tre lumini accesi, una fotocopia della propria carta d'identità ed un vaso di fiori crisantemi, simulava le tracce del reato di minaccia grave attuato da ignoti ai suoi danni. Un riferimento questo al secondo filone di indagine, quello non confermato né smentito dalla procura di Agrigento e che non ha portato ad alcun arresto, che vedrebbe Mattina e i sindaci di Licata, Angelo Graci e di Racalmuto, Salvatore Petrotto, responsabili di una tentata concussione nei confronti di Giuseppe Giuffrida, amministratore delegato della Girgenti Acque. Graci avrebbe chiesto a Giuffrida di assumere i suoi due figli.